Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Scandici e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, per un veicolo fermo, rallentamenti tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Alto Pascio e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. Chiusa per lavori l'uscita di Sesto Fiorentino provenendo da Pisa. In A12 code a tratti tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti e tra Massa e l'allacciamento con la 15 verso Genova. Sulla FIPILIN direzione Firenze, rallentamenti tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e rallentamenti per un veicolo fermo tra Ponte d'Era Est e Montopoli Val Darno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!